Nissa Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, prevista per domenica 11 settembre alle ore 15, è stata rinviata a mercoledì 21 settembre alle ore 16. La variazione è stata annunciata dalla Lega Sicula in un comunicato ufficiale nel quale si fa riferimento all'indisponibilità dello stadio Marco Tomaselli, dove sono in corso i lavori di collocazione del manto sintetico e all'accordo tra le due società. La prossima partita dei biancoscudati sarà dunque quella prevista il 18 settembre allo stadio Esseneto di Agrigento, per un derby che si preannuncia tirato e combattuto dall'inizio alla fine. Da una parte una Nissa desiderosa di conquistare i primi punti in campionato, dall'altra un Acragas che non nasconde le mire di promozione finale. Nissa e Acragas sono impegnate peraltro anche in Coppa Italia. Entrambe le squadre hanno guadagnato l'accesso al secondo turno della competizione con Don Carlo Misilmeri, Parmonval, Resuttana San Lorenzo, Mazzarese, Sciacca, Taormina, Leonzio, Comiso, Rocca Acquedolcese, Nuova Igea, Siracusa, Palazzolo. Nonché le vincenti di Leonforte, Enna e Santa Croce Modica, che si giocheranno giovedì 22 settembre. Il quadro completo delle partite in programma domenica per la seconda giornata del Girone A di eccellenza. Cus Palermo Gela, Don Carlo Misilmeri Mazzarese, Enna Castellammare, Mazzara Acragas, Resuttana San Lorenzo Profavara, Sciacca Casteldaccia e Leonfortese Parmonval.